Arena Robot è un laboratorio che insegna ai ragazzi il coding quindi passeranno da passivi fruttori di tecnologia ad attivi creatori di tecnologia creando dei software, dei programmi che faranno muovere il loro robot all'interno di un'arena con sette sfide si gioca in squadre e attraverso quindi i costi di gamification, di sfida al coding diventeranno bravissimi e scopriranno da soli un sacco di cose che pensano di non sapere ma che se li metti a fare, se li metti a svolgere i compiti sanno in realtà risolvere la classe viene divisa in coppie ogni coppia ha un tablet e un robot che si chiama Cody Rocky questo robot deve fare queste sette missioni lunari e ogni volta che una coppia, un team ha terminato una missione viene controllata se l'algoritmo che hanno trovato è corretto viene assegnata alla missione successiva ovviamente la missione è un generico compito ci sono tantissimi algoritmi che possono risolvere quindi ogni ragazzo, ogni team troverà il loro modo per risolvere la missione ciao 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 ciao